zuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con il nuovo episodio il market watch dedicato interamente alla banned list perché si ragazzi mi dispiace non è uscita la reaction però ragazzi conami ha tirato fuori certe robe che di base non ci saremmo mai aspettate e molta roba è finita dentro e anche quella era abbastanza inaspettata ovviamente ragazzi prima di continuare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi dove preordinare i nuovi team del 2024 si ragazzi hanno già aperto le prevendite sia per l'italiano che per l'inglese e io lo so non si sa ancora cosa c'è dentro ma ci sarà la maganera alternativa art e secondo me quella vale i vostri soldi quindi ovviamente se volete supportarmi e ottenere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto invece se volete prodotto coreano giapponese o anche robina spicy tipo le slive e tutte quelle menate lì trovate jack store sempre qua sotto codice sconto e il referral link ragazzi non dimenticatevelo mai in più se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo ragazzi andiamo a vedere cosa è successo bene ragazzi io oggi partirei dalle bandite allora ragazzi lo sappiamo con ami ha deciso sfortunatamente di bandire il mio amatissimo link curibo e perché dico amatissimo erenz perché io tre giorni fa l'ho preso da jumpa quindi errori del market sì sì gli errori della vita e quindi niente adesso vedo per la prima volta con voi a quanto sta e vediamo di non piangere allora allora vabbè vabbè dall'italia sta ancora 15 euro e va bene perché stava così anche prima adesso controlliamo effettivamente le altre print perché diciamo che quella essendo un po' esclusiva ci sta che non sia calata però ovviamente la ragazzi la rara chi se la incula più nessuno assolutamente nessuno ultimo venduto 2 euro e 50 sì ragazzi sta a 4 euro però parlamoci chiaro chi è che ce li butta adesso probabilmente i prezzi sono ancora prebanned però dategli un po' di tempo se ne ammucchieranno tanti e il prezzo scenderà sicuramente sotto l'euro assolutamente sì poi andando avanti abbiamo barone dei fiori ragazzi barone dei flop sì konami ha deciso di levare qualsiasi roba abbia negazione ma questo per rendere il gioco più umano no konami ha annunciato una sorta di nuovo max c roba che nega quindi è solo un attimo per fare un po' di spazio e quindi sì 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 sta a 6 euro secret ma lo sappiamo già che non si venderà più di 2 euro e 40 se la gente è disposta a pagarli perché comunque che senso avrebbe comprare un barone adesso quando effettivamente io la carta non posso giocarla non ci faccio assolutamente niente molti mazzi che lo usavano insieme anche al savage che vedremo dopo e dovranno trovare un'altra opzione considerate vabbè questa era una carta che spaccava e negava comunque ci sta alla fine che konami l'abbia voluto togliere era inutile metterla a 2 o a 3 no a 2 o 1 perché effettivamente ci facevi poco come possiamo vedere ragazzi abbiamo anche il savage il savage che ultimamente stava un po' salendo si vendeva anche su 2 euro stava un po' salendo mamma mia cazzo da quell'euro all'euro e 50 mamma mia 63 centesimi dalla germania perché la germania capito dai levamose lo subito perché tanto non lo rivedremo mai più e invece noi ancora imperterriti a no 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 c'è qualche professionale che ha capito la situazione e l'ha abbassato poi ci siamo noi noi con la lingua italiana e non parlo di me in primis ma in generale che ovviamente ci vogliono fare almeno 2 euro perché dovrei spendere 2 euro quando il venduto più alto quando si giocava era 1 euro e 60 e adesso non si può girare più lo vuoi in italiano paga va vai a cagare voglio vedere le print alte voglio vedere se c'è qualcuno che chiede ancora dei soldi per questa roba dai la quarter la quarter wow che drop si qua si vede proprio la caduta di stile oh 18 vabbè diciamo le rarità basse reggono di più mettiamola così il primo periodo mentre quelle alte crollano l'incurivo forse perché aveva una print particolare e non usciva da espansione ufficiale diciamo quella la puoi considerare anche una carta da collezione anche questa ma questa è uscita tipo 3 mesi fa l'incurivo ormai ha penso più di 5 anni se non erro andiamo avanti abbiamo altra carta bandita summon limits ragazzi a parte che stava calando ultimamente la versione quarter ha fatto un drop ha fatto un bel tonfo anche questa ragazzi 5 euro per una carta che si vendeva a quasi 30 è tanto adesso dall'estero si fa 6 euro si 6 euro si fa 9 euro però ragazzi questa stava al doppio stava palesemente al doppio ripeto noi ancora proviamo a vendere a 15 la vedo un po male eh poi ci può stare che queste carte non vengano regalate e mantengono il loro valore però ovviamente è poca la quantità di persone che è disposta a pagartela perché o collezioni le quarter o collezioni le bandite sperando che un giorno le sbandiscano per farci sopra i soldi come fa molta gente o altrimenti ci fai poco o niente l'album di max c attende quel giorno sì 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 anche il mio mio tutti segreti quelli come hanno detto vabbè ormai è andata via peccato l'album con i 180 per di copie alte mate presi negli anni ma sai una cosa il fatto che con abbia abbia annunciato quel nuovo max c che è brutto come la fame mi fa dire che no non riavremo mai il vecchio max c che poi questo nuovo ti fa pescare per ogni vocazione normale e speciale che fa l'avversario però se hai più di 6 carte in mano tipo in end phase devi scartare tutte quelle che hai extra è un po strano come normale che sia se hai più di 7 carte cioè se tu hai la settima carta devi scartare non lo so non ho letto con precisione però aveva delle condizioni rispetto a max la differenza però è che qua si può fare anche su normal quindi nel caso esca un mazzo che gioca solo di normal tu puoi usarla e poi un livello 4 quindi teoricamente non è sfruttabile da sprite però uscirà qualcosa tipo con i livelli 4 che sarà serciabile tutte quelle menate poi acqua l'hanno fatto proprio perché vogliono fare qualcosa immagini qualcosa con tidal onesto allora andiamo avanti abbiamo le prime limitate e questa è la limitata più potente che ha fatto proprio un salto di qualità ultimamente che non se lo immaginava nessuno da costare 10 euro post ban perché si giocava i sworzol e tutte quelle menate lì sworzol ha anche mazzo che grazie a lei un pochino si è rialzato ma non lo andremo a vedere nello specifico da come ho visto in giro moglie leggermente salito e basta comunque protos carta molto interessante da essere venduta 10 euro tipo il 9 il 13 si è venduta a 25 io mi immagino sto poro disgraziato quando ha visto il market il giorno dopo e tipo ha iniziato a prendere le scrivanie che ha a casa e lanciarle contro le finestre per sfondare qualsiasi cosa ovviamente non è stata una vendita casuale perché ovviamente tipo dall'Inghilterra con la dogana costa 25 da noi costa 27 in inglese ovviamente in italiano 28 sulla trentina diciamo che ovviamente c'è un hype generale la carta nel corso delle prossime settimane scenderà leggermente sicuramente non ve la regaleranno a 10 euro però secondo me potrebbe stanziarsi tra i 20 e i 25 sicuramente a 30 non ci arriva se non esce adesso un mazzo che ne abuse ovviamente ma se Konami la sbandita penso non ci sia questa situazione adesso prossima carta adesso diventa la carta del meta potentissima la serci anche da mazzo con carta X che dovrà uscire adesso la prossima espansione con Gachi Gachi Gantetsu ovviamente faranno tipo Colosso no no Falò però che funziona solo con col mi sfugge il nome con Proteus che cazzo sto dicendo? Protos con Protos sì ti serci Protos a caso grazie al Falò che sercia colosso sì vabbè abbiamo capito so stanco ragazzi so stanco andiamo avanti andiamo all'ultimo Dragon Roller ragazzi questo era il più chiamato boh della seconda venuta di Cristo ovviamente Tidal è tornato erano tornati tutti in America sì in Giappone ce l'avevano e quindi ovviamente ragazzi il prezzo è leggermente salito ovviamente non così tanto la carta non si gioca però comunque da come potete vedere il grafico è in leggera salita stessa cosa la versione rara che secondo me è più hypata della Secret perché ovviamente è di un set vecchio cioè è di un set antecedente alla versione precedente alla versione Secret e quindi ovviamente i primi preset iniziano a costare un euro poi un euro e quaranta che paragonato adesso alla Secret che era promozionale del team costa molto di più e comunque era una rara che non era facile da trovare prossima carta abbiamo mio padre ragazzi questo archetipo di merda mi ha fatto fare archetipo di merda cosa di merda perché mi fa schifo allora vi racconto questa un ragazzo mi ha scritto auguri cappè oggi è il tuo compleanno sicuramente c'è la Banned io ho detto no è sabato non può uscire la Banned spoiler è uscita la Banned non lo sapevo io stavo andando verso il locale dove avremmo dovuto mangiare apro Car Market e vedo una vendita vedo Colosso Drago del Tuono venduto a 30 euro ho detto porca troia stava a a vendici sta nel senso era American ero molto contento apro il gruppo Telegram e vedo oh Colosso sbannato cazzo riapro Car Market avevo venduto gli altri due Colossi e così mi sono fatto 80 euro in maniera molto bella e tranquilla ovviamente si ragazzi la carta è salita da venduti poraccio poraccio quello che l'ha venduto a 10 euro adesso si vende sui 22 anche se ci sono venduti palesemente più alti perché vi dico io li ho venduti a 30 però vabbè in italiano sono un pochino scesi cioè si erano i pati sono scesi di nuovo forse American sta American dalla Spagna 23 ragazzi è stato un hype generale di un quarto d'ora che effettivamente ne è valsa la pena grazie grazie a Konami e ringrazio i ragazzi che mi li hanno comprati poi andiamo a vedere tutto il resto dell'archetipo abbiamo l'altro ovviamente Drago Colosso che da 4 euro è salito a 9 che ci sta eh c'è stato un venduto a 10 incredibile vabbè nessuno se l'ha inculato quello ultra probabilmente poi abbiamo Titano Drago del Tuono anche questo a 70 centesimi è arrivato sull'euro e 70 ha avuto un hype vabbè probabilmente prezzi così alti dell'euro e 70 sono dovuti da persone che avevano altro ovviamente del mazzo oltre la singola carta poi abbiamo Oscuro Drago che è anche questo da 2 euro è salita a 9 e Ahrens mi conferma dalla regia che in America si vende a 20 dollari giusto? sì perché in America sono dei pazzi tutta la roba è al triplo del nostro probabilmente sì sì no ma in America se c'è qualcosa che poco poco viene sbandito usato il prezzo deve quadruplicare per forza e io americano medio palesemente che sparo alla prima persona che passa per strada devo ovviamente aumentarlo ma va bene non vedo equazioni sbagliate in questo sì sì poi andando avanti abbiamo anche Falco Drago del Tuono anche questo forse questa è una delle carte che si è ipate di più da 1 euro è passata a 3 ovviamente io questa non ce l'ho i primi playset stanno sui 3 euro sì 3 e 4 vabbè diciamo che forse noi in Italia abbiamo quasi i prezzi più bassi poi dalla Germania principalmente hanno prezzi ancora più alti top andiamo avanti abbiamo anche Rugito Drago del Tuono anche questo ragazzi vabbè inutile parlarne tutto si è ipato de sto mazzo voglio vedere dall'Italia un set se io volessi adesso comprare Rugito Drago 10 euro l'uno 10 euro l'uno in American ma se io lo voglio in italiano proprio per farmi del male non c'è un set interessante dovrei comprare questo a 3 euro a 6 euro e 30 e poi questo bel 2 per a 11 euro e 99 grande vabbè è che è dei teen 2019 questa foliatura piace a tutti e nessuno vuole la merda comune no esatto ecco comune ma cosa è ultra è ultra ragazzi questo è l'unico set se lo volete prima di pagarlo 10 euro datevi una mossa eh perché qua le carte stanno scarseggiando eh poi andando avanti abbiamo la magia che fonde peccato che non c'è verte se no tiriamo pure questa e i set sì anche qua iniziamo a renderli sull'euro dall'estero sono pieni ne hanno 30 30 11 copie vabbè vedo che hanno preso messo da parte e tirato fuori al momento del bisogno o avevano 150.000 bustine di mp19 e hanno spacchettato palesemente di tutto cosa secondo me molto più probabile sì decisamente andiamo avanti oh ragazzi ragazzi chicken game ci siamo levati dal cazzo ultimamente mina e adesso abbiamo chicken game bello bello abbiamo 4 upstar adesso sono contentissimo vediamo se la prossima banded konami sarà disposto a darmene anche un'altra o tutte e tre sarebbe carino soprattutto perché è una rara che boh ha due print e sta un po' sta un pochino dovrei tirarle fuori dal bike perché ragazzi come voi anch'io del bike e secondo me è uno spreco lasciarlo lì no aspetta c'ha monoprint secondo me considerando questo rc02 giapponese che vabbè è del 25esimo anniversario però da noi non è che possa possa essere sulla rarity 2 ve la butto lì poi forse mi sbaglio però però monoprint o lì o nei battle pack no nei battle pack si nei battagli della leggenda o ovviamente in qualche OTS sono molto preoccupato sono molto preoccupato devo tirarle fuori come le ondata di calore sto perdendo dei soldi andiamo avanti oh ragazzi ragazzi dopo vedremo anche kirin che è stato sbandito se non ricordo male e questa che viene elevata quindi che konami voglia spingere per poco i pendoli dai che ci potete credere possiamo potete tornare ragazzi mamma mia questa per pendolo è un tumore se tu gliela giri ti guarda e dice no no per favore no non voglio giocare e invece sì e invece pendolo dovrà giocare adesso questa ovviamente ragazzi è una promo da PCY e non è scesa perché non può scendere da roba del genere perché trovarla NM è come è come trovare una ragazza col cazzo cioè un po' difficile però tutte le altre versioni ovviamente sono crollate queste erano carte da un euro adesso sono carte da 25 centrisimi che palle eh lo so lo so erenz mi dispiace questi probabilmente erano i venduti miei però nel senso questi erano i venduti standard di questa carta tra gli 80 e l'euro e adesso adesso siamo così e non non va bene anche se comunque questa è del no è del 14 quindi è è ultimamente e vabbè scialla prossima carta ho l'armageddon knight carta interessante che non si gioca però sai la versione APTDN è figa è super è vecchia e in prima inizione ovviamente non vuoi venderla a 7 euro eh mi sembra normale poi mettici questa mettici l'altro format in qualche modo ci devo fare i soldi sopra ma controlliamo adesso le altre print eh così curiosità eh vediamo se anche sì anche le altre print stanno salendo pochissimo eh adesso da DASA sta sui 50 centesimi però ragazzi era una carta che se vendeva a 23 adesso a 50 diciamo un piccolo hype generale ce l'ha avuto un piccolo penny stone poi andando avanti abbiamo memoria dei purelli che è stata rimessa a 2 se non ricordo male ma non è pure purelli normale questo sì però quella è una rara e ovviamente non si è ipata volevo vedere ovviamente se le altre carte purelli avevano avuto un pochino di spintarella verso l'alto non credo vedendo qua forse qualche set di qualche carta ma attualmente il grafico mi sembra molto standard perché probabilmente si sa che queste carte verranno ristampate se non ricordo male qualcosa anche all'interno della Rarity 2 quindi c'ha poco senso far risalire queste carte quando a breve scenderanno nuovamente più che altro secondo me le persone se ne vogliono sbarazzare guardate tanto i grafici sono questi sì può essere che qualche carta è leggermente salita ma nessuno è disposto a pagare tanto per sta roba probabilmente prossimi giorni vedremo qualche set venduto quindi il grafico sarà leggermente in salita di tutte le carte che abbiamo visto però non credo ci sarà questo incremento enorme andando avanti adesso abbiamo la prima carta tornata a 3 una bella carta che è stata ristampata ultimamente e che si gioca nel retro format malicius ragazzi guardate qua che bel grafico guarda come sale guarda come sale 20 euro sto coso porca troia un po' di meno si sta ristabilizzando sì diciamo che questo non sarebbe male la PA 2x1190 1 is excellent vabbè vabbè sorvoliamo però considera che se io voglio un bel play set NM sono 20 P8 l'1 so poche però è veramente bello è veramente bella sta carta eh ragazzi questo è stato un gran set sfortunatamente Konami i set così belli non ce li da più anche se comunque eh dall'Italia non ce ne so più però si vende un bot si vende un bot Konami per favore ci fai un altro set del genere e non un battle of legend questo questo era è che secondo me li capiamo troppo tardi cioè tra dieci anni sono sicuro che diremo eh vi ricordate i battle of legend che figata le secret li dentro chissà che merda ci sarà allora eh sì però per questa nostra per noi sta roba era una merda era un set del cazzo era un set anime che non serviva assolutamente a nessuno eh il tempo cambia e noi ce la inculiamo cioè ragazzi questo prodotto l'unica roba decente era era Sheen era Sheen super i pacchetti no 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 Sheen è uscito solo in America da noi è arrivato il booster box e la roba decente era tipo che cazzo è sta merda era questa la risposta ok c'è Thunder King comune ok guarda che bello 2015 2015 12 12 12 12 14 15 15 poi 20 30 ok pandemia 150 è tutto normale è tutto normale vediamo se se ne può comprare uno non se ne può comprare uno vediamo se se ne può comprare uno no non mi chiede in italiano ci provo non credo farò un opening andiamo avanti abbiamo l'altro Malicious ragazzi è anche quello quello ultra è salito quello ultra i primi set in inglese stanno a 25 set in italiano in prima edizione costa si sta roba nm si vendeva a 10 euro pure adesso però a 10 euro si vendeva un bel set prima ma secondo me no questo mi sa che non si è ripato così tanto un po' si ma no ma eh ma piano piano perché la gente vedrà tipo ah ok quello secret è arrivato a costare troppo prendiamo quello ultra in prima edizione perché quello da dr4 non lo vuoi neanche vedere è super quello da dr4 ne avevo uno è molto molto bello e sembra di avere una file da cp da dr4 te lo dico eh controllo beh però abbiamo un adeso abbiamo un adeso e non mi ha pagato il cazzo eh ma costa anche lì un playset costa 3 euro vabbè allora vediamo abbiamo oh quello bello nuovo ristampato oh anche questi stanno salindicchiando in italiano quanto è 50 centesimi bella 70 secondo me ah no vediamo dall'italia noi siamo sempre figli di puttana cioè nel senso capiamo guardalo ci sei tu con 1,50 cioè vabbè io l'ho presi per il futuro mica pigliati per adesso non voglio vendervi cioè 1 euro sì il prezzo è 1 euro ragazzi se sta roba la giocate in retroformat o vi servirà più avanti perché lo volete giocare in hero perché volete giocare in hero di hero piateli subito perché tanto questa è una roba che per retroformat sarà almeno a 1,50 barra 2 come grafer super che adesso si vende a 3 euro e stava a 50 centesimi prossima carta abbiamo arpa ragazzi arpa da 1 che sarà ipata è passata a 3 e tipo la piazzate tutte e niente i primi set stanno stanno a 4 più o meno ma anche 5 mi grava un po' che l'ho venduto a 3,50 perché non ci credevo ho detto no tanto non si vende no stanno a 4 euro in italiano cioè sta 4 poi passa a 6 forse devo aspettare dovevo non caricarli tutti a 3,50 però mi sentivo in colpa averli comprati e non averli venduti e vabbè è la vita andiamo avanti abbiamo anche arpa arpa rara non cagate il cazzo che ce l'ho a 2 euro ragazzi perché sono le ultime 6 arpe che mi sono rimasti rimarranno lì se non si vendono e vediamo anche questa cartaccia da un euro è così poi poi andiamo alla penultima carta ovvero terrortrop super che ovviamente ragazzi è salita a 2 euro a 2 euro il set porca troia sta roba ragazzi si sbustava e si lanciava la gente lo utilizzava come Facebook non è vero si giocava in B.A si ma nel corso dell'ultimo lungo periodo e in piloti ad alta velocità perché piloti ad alta velocità è un set abbastanza è già passato tutto sto tempo no è un set quasi dieci anni fa si B.A. è uscito dieci anni fa quest'anno si ok interessante non ricordavo assolutamente il pacchetto ero convinto di averlo schippato totalmente fosse una roba degli ultimi due anni ripeto ti dirò di più ti dirò di più anche Exiton usciva dieci anni fa si no Exiton me lo ricordo questo no ricordo tipo la sua presenza ad un ICS e basta ripeto allora comunque si si diciamo che post banned post la sua limitazione la gente la prendeva e la usava come frisbee e niente ci sono cose che capitano attualmente ci sono venduti a 6 euro probabilmente questi sono in inglese perché chi è il pazzo che li paga 6 euro vabbè andiamo con le ultime carte ovviamente la stessa versione ultima tra i ragazzi questa 60 questa non è salita questa è rimasta abbastanza standard però in italiano costa meno che l'inglese e o lì bava non si sa perché ce n'hanno un 12 per l'hai detto prima sta merda si lanciava anche da OTS tipo oh mio dio questo mi da davvero 15 euro per sto schifo tieni si si probabilmente a qualche ICS tipo a Bologna e ad altri eventi trovavi gli italiani che ti dicevano oh la vuoi sta roba 5 euro e 70 si si pia e sono cose che capitano ragazzi poi Konami decide di rimetterle a 3 e vabbè e vabbè andiamo avanti oh engage engage quanto eravate contenti quanto engage era stata levata dal gioco adesso Konami ha deciso di rimettere a 3 ovviamente questa è l'alternativa art ragazzi si è un po' hypata un pochino eh un pochino tipo il set sta a 4 euro l'uno e vabbè dovrebbe essere l'unica carta sky che è salita al massimo c'è l'altra che mi sfugge il nome con l'uscita da mamma che potrebbe essere leggermente salita ma non credo perché tanto engage si engage aveva già hypato quella carta quando era tornata a 2 quindi è un po' così e non cagate il cazzo e godetevi di engage a 3 adesso avete credo tutto credo di si perché tanto l'altra opzione l'altra carta mi sembra era multiroll ma anche quella l'hanno giusta a 3 quindi sono contento per i giocatori sky tanto era uno dei mazzi waifu più amati quindi ci sarà tanta gente contenta andiamo avanti abbiamo anche l'altra versione di engage ragazzi ovviamente tutte e due secret e forca troia 5 euro questa 5 euro anche questa versione di merda vabbè ora ora visto che quasi è staccato tutto andiamo a vedere le ultime due carte non prettamente presenti in banned ma proprio perché non sono presenti in banned hanno avuto un hype così un po' tanto consistente la prima che è quella che l'ha avuto di meno è quem che si è un po' salita e sti cazzi 42 euro da tipo 38 qui era scesa e vabbè ragazzi despia non lo vedremo mai in banned è una cosa impossibile conami ci punta troppo deve far uscire l'ultimo supporto deve far uscire il prodotto in giappone dove palesemente farà mostreranno tutta la lore quindi è inutile abbandonate l'idea di vedere questo in banned stessa cosa runic o qualsiasi altra roba amen e come ultima carta ragazzi reggetevi forte bam oh mio dio il drago bianco occhi blu non credo sia il drago bianco occhi blu comunque ha venduto a mi sento male ma quanto l'hai venduto tu il tuo poco più della metà ottimo 17 euro e 20 no no 20 mi sembra ed ero tutto contento ho detto cazzo finalmente prebando l'ho venduto dai allora parlamoci chiaro come fa brand da adesso ancora in giro scusa secondo me si è salvato solo perché konami non ha fatto un evento non ne ha fatto neanche uno è proprio per questo che non pensavo toccassero fire king snake eyes perché non c'è stato nessun evento mentre branded se l'è fatti un po' tutti gli eventi e nel senso nel momento in cui vinci anche l'icss de bologna forse 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 qualcosina dovevi toccare forse ma vabbè ragazzi prossimo formato si gioca di nuovo branded ma allora io mi chiedo le persone che hanno deciso di giocare dogmatica all'inizio che si sono ritrovati talmente tanti supporti da evolvere il mazzo 52 volte quanto sono stati contenti le sega a due mani si stanno a fare in questo momento ma vabbè chi siamo noi per giudicare scelte konami? nessuno quindi buona bella per i giocatori io sono Eren bella per i giocatori di Despia divertitele ancora un po' a giocare a sto mazzo perché prima o poi arriverà a quel momento lo dicevate anche dba e non è mai successo sì ma il mazzo fa schifo nel senso o cambia talmente tanto il meta che cioè Despia è ingiocabile come lo è stato per tutto quello che stanno tirando fuori tipo alla nera alla nera si parla ragazzi di 15 anni fa però mi fa molto ridere che eh no bisogna le vostre robe perché sono troppo forti e poi ce li troviamo boh 15 anni dopo e di faniera che cazzo stai giocando eh ragazzi sono cose che succedono e va bene ragazzi grazie mille per aver visto questa puntata del market watch e lo so abbiamo saltato una marea di roba a questo giro però sapete volevo centrare questo episodio solo sulle carte della band quindi non vi preoccupate settimana prossima uscirà un nuovo episodio e parleremo di tanta tanta roba sia per quanto riguarda i nuovi prodotti che hanno annunciato che per quanto riguarda le carte che sono salite e scese detto questo ragazzi vi rinnovo invito a comprare i teen ovviamente su Fantasia Store link in descrizione e codice sconto e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti grazie a tutti